E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! Io sono Francesco Vicheschi e il mio carico di te e se vi raggiungerci i miei video! Oggi con me c'è il favorico spavocento che non può boccare mai il fraccio Marco! Buonasera a tutti! Ciao ragazzi! Ciao Francesco! Oh, la batteria! Sì! Cosa mi hai portato oggi? Una bebita? No, degli schifido! Schifo che è? Schifido! Cosa sarebbero? Non ho mai sentito questo batterio! Sono delle specie degli slime che si possono usare con i barattolini delle batterie! Ah, quindi sono degli slime che fanno schifo! E quindi esce il nome di Schifido! Ok, quindi cosa faremo di bello? Li andremo a decorare e ad aprire! Come decorare? Sì, insieme allo slime, cioè lo Schifido, si troverà una bustina con delle deconazioni! E quindi con queste ciotoline che farai? Li metterò dentro e le cercherò a decorarli! Faremo finta di preparare un gelato al cioccolato e un gelato al pistacchio! E il pistacchio? Io adoro il pistacchio! Io mi prendo per il gelato al pistacchio! Ok! Io prendo il cioccolato! Quindi partiamo dal decorare quale dei due? Questo! Ok, quindi metti una ciotolina centrale, così! Togliamo questo, togliamo questa cannuccia, togliamo anche questa cannuccia, ecco qua! E vediamo questo cioccolato uso pistacchioso! Qui ci sono le decorazioni pizzette, cioccolatini e tutto! Oh, che carini! Ci sono anche le piccole pizze! Ma sono anche tipo corallini! Sì, sì! Ah, quindi dopo potrei fare una collana, un orecchino per la mia fidanzata! Sì, tipo sì! E poi c'è lo schifido! Oh, questo è il pistacchione? Sì! Ammazza! Lo facciamo appiattito qua dentro! Un gelatino, una coppetta gelato, stiamo preparando per voi! Ecco! Guarda! È bello? Eh, insomma, per ora, non è granché! Apriamo questa adesso! Eh, come si apre? Opla! E quindi dobbiamo mettere queste decorazioni sul nostro gelato pistacchioso! Questa qua! Cos'è? Eh, una cosa! Una caccola! No! Sembrava una caccola gigantesca, ragazzi! Una cosa di spurti! Decoriamolo meglio! Ok! Così mi sembra un po' di... Non lo so, di muco! Eh, infatti! Altro che gelato al pistacchio! Cos'hai preso? Eh, delle spugnette e due colarlini! Ok, dai! Mettili su! Una spugnetta! Un'altra spugnetta! Non c'è qualcosa di più colorato? Sì, c'è, c'è! Eh, dai! Un altro colarlino! La mini pizzetta! Una mini pizzetta? Sì! Ma mi sembra un formaggio per topini! Eh, 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 morsicato poi! Opa! Oh, carino! Ce ne sono altre? Sì, sì, sì! Mettiamole, perché viene più colorato! Poi c'è anche quest'altra mini pizzettina che è proprio mini! Oddio! Pensavo che ti fosse caduto un dente! Sembra un dente staccato! No, lì c'è il colarlino e lo mettiamo così e poi gli mettiamo un altro di queste! Perché si chiama Schifido? Perché? Perché c'è le caccole dentro! Infatti è un po' mucco questo! Dai! Ma non era un gelato al pistacchio all'inizio? Sì, è un gelato al pistacchio, stai tranquillo! Ora faccio il consiglio che hai detto tu! Ah, guardate come sta diventando sbilluccicante con i corallini! Wow, Franci! Abbiamo creato un Schifido decorato! Mettiamoci una cannuccia, che ne pensi? Prima li danno al nostro cliente! Sì, è vero! Ecco qua! E mua! Ecco qua! Wow! Quindi il primo gelatino! E quello è madame! Sto facendo vedere... Cominciamo a fare l'altro, mentre io faccio vedere questo che... Ragazzi, devo dire che è venuto veramente carino! Che ne pensi, Franci? Sì, sì! Alla fine io sono il giudice che voterò qual è più bello, il pistacchioso? Anche, lo metto altre due caccolini! Se è venuto più bello il pistacchioso o quello che il gusto è questo? Che stai per fare? Questo che sto per fare è il cioccolato! Oh, ora faremo gelato al cioccolato! C'è una canzone, lo sai, Franci? Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, sì, gelato al cioccolato! La conosce la canzone? Ovvio! Wow! Cantiamo! Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, sì, gelato al cioccolato! Franci Marco, apriamo questo! Oh, non hai fatto vedere! Cosa? Le decorazioni di questo gelato! E' questo, è un tipo delle cartine! Ah! Oh, queste sono più grandi le decorazioni! Sì! Attenzione! Oh, mi esplosa una fuori! Forse, forse! Questa è una zucchero! Forse, forse verrà più carino questo! Sì, sì! Al gelato al cioccolato! Sì, sì, forse, forse, signore! Vieni, forse, forse, signore! Almeno si mangia oggi! Tortina! Wow! Ma sembra un pezzo di tiramisu! Secondo me è una torta! Gelato al cioccolato! No, è un po' salato! Sì, gelato al cioccolato! Ragazzi, vedete che grande cantante che sono? Ma qui non ci sono i corallini a quello al cioccolato? Sì, sì, sì! Ah, quelli li metterai alla fine? Sì, sì! Guarda, i pezzi di torte! Ah, questo, cioè, sono più grandi le decorazioni! Sì, e sono anche molto tante, tipo! Tante? Sì! Quei pezzi di cioccolato mi stanno facendo vendere l'acquollino in bocca, ragazzi! Sembrano veri! Oh, mio Dio! Che figata! Metti quella! Alla fine, quando avrai finito, una bella cannuccia! Ecco a te un pezzi di tortino! E' buonissima, ragazzi! Arrivederci al gelato! Dai, metti la cannuccia! Te devo notare la cosa più bella che hai fatto! Questa è ancora più buona! Me la mangio anche questa, ragazzi! Anda! Buonissimo il pezzo del tiramisù! Fantastico! È vero! La trovo più! Eccola qua! Tocco finale! Piace? Vediamo! Facciamo vedere i nostri ragazzi! Ragazzi, sono carini! Sono venuti carini i decorati! Marco, ti piacciono? Sono fighissimi! Mi piacciono tantissimo! Quindi, rullo di taburi! Bota! Vince! La battaglia degli schifidol! Il gelato al cioccolato! Non sei d'accordo? No! Ti piace? Oh! È esploso! Sì! Ma che le bombette lì dentro? Bu! Ti piaceva di più quello al pistacchio? Sì! A me piace di più quello al cioccolato! Quindi vince quello! Scambiamo le decorazioni! Pollici in su! Comunque, se vi piacciono i nostri gelati! Con il calcio del gelato! Con il calcio del gelato!